Don Giuseppe, il sacerdote di Bianchi, siamo qui alla quarta edizione del presepe vivente organizzato dalla tua parrocchia. Sì, siamo alla quarta edizione del presepe vivente Biancaro che impegna circa 100 figuranti più tutti coloro che elaborano il presepe ma quest'anno l'esperienza è ancora più forte per noi perché ci siamo lasciati guidare ancora di più da quello che è lo spirito di Greccio. Come si sa quest'anno sono gli 800 anni di questa prima esperienza che Francesco di Assisi ha voluto far fare ai suoi e quello che noi vogliamo far rivivere ai nostri visitatori in questa nostra piccola Greccio quest'anno. È un'esperienza fantastica ma soprattutto un'esperienza dove possiamo sperimentare che cosa significa che un Dio ha scelto di farsi bambino nella nostra quotidianità, nelle nostre cose, nei nostri affari. Lui è nato perché ci ama. Grazie a tutti.